Oggi si è tenuto il secondo evento organizzato dall'AUDUSBEF, dalla Scuola di Formazione e Aggiornamento Professionale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Il tema estremamente importante e di grande impatto sociale è quello delle frodi online. Con l'avvento del digitale e con l'utilizzo dei canali online si sono notevolmente diffuse le frodi online. Sono intervenute tutte le componenti che hanno analizzato il problema e tutte le varie professionalità. Avevamo il presidente dell'arbitro bancario finanziario, il professor Tucci, e con esponenti anche degli intermediari finanziari, la professoressa Calderazzi, e dell'AUDUSBEF per i consumatori, l'avvocato Laudadio. Certamente il Consiglio plaude a queste iniziative e c'è stato anche un grande riscontro di uditorato e tanti sono stati gli avvocati che hanno ovviamente anche inteso comprendere quali sono le modalità di presentazione di un ricorso all'arbitro bancario finanziario e quindi di instaurare un contenzioso per la tutela degli interessi dei consumatori truffati con l'utilizzo del digitale. Io ho affrontato il ruolo della banca in questa sfida di prevenzione e monitoraggio e gestione dei rischi. Da questo punto di vista le banche assolvono un ruolo fondamentale in quanto devono inserire nei propri assetti organizzativi una serie di misure volte a monitorare le possibili ipotesi di frodi. Questo perché diventa necessario affrontare delle forme di tutela nei confronti della propria clientela in quanto uno degli obiettivi della direttiva comunitaria che consente e ha implementato gli strumenti di pagamento digitali è proprio quello di favorire la fiducia nei consumatori nell'uso di questi strumenti. Pertanto la banca deve necessariamente accompagnare i propri clienti in questo processo di digitalizzazione. E' emersa l'attenzione della giurisprudenza e anche dell'abito bancario e finanziario per questo fenomeno che è in aumento anche per effetto del progresso tecnologico e anche del mutamento delle abitudini, della propensione al consumo dei cittadini, delle persone in generale, soprattutto dopo il periodo pandemico. ed è emersa come la disciplina che regola questo fenomeno, si sforzi in tutti i modi di assicurare un ambiente sicuro per chi opera a distanza, contemperando da un lato quello che è l'onere dell'intermediario di dimostrare sempre che le operazioni sono state effettuate formalmente in modo regolare, secondo il meccanismo della cosiddetta autorizzazione forte. E dall'altro la parte del cliente ha anche una sorta di autoresponsabilità nella custodia delle credenziali e anche nel non porre in essere comportamenti gravemente colposi che escluderebbero il diritto al rimborso di un'operazione un'autorizzata una volta che intermedia chiaramente vi è dimostrato la regolarità formale dell'opinazione.